Buongiorno a tutti 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 sorella, esprimono il loro rammarico e appunto uscendo dal tribunale dicono non si può fare così, loro ridono ma mio figlio ha avuto vent'anni di carcere e cattiveria e cattiveria, queste sono le sue parole, non possiamo sopportare quella gente che ride e che applaude e quindi lo sfogo amaro e le lacrime dei loro che escono dopo la sentenza e quindi le due facce gioia e tristezza, vedete qui c'è appunto chi festeggia e chi invece esprime tutto il suo rammarico per questa sentenza arrivata appunto dopo le 21.30, dopo quattro ore di consiglio. Cambiamo argomento, andiamo a vedere la questione immigrati, si doveva tenere alcuni giorni orsono, non era stato possibile ma si terrà, stiamo parlando della marcia, tutti in piazza, oggi i musulmani per sostenere questo concetto, tutti uniti per la pace, saremo in tanti a parlare Iqman Rajdi, Presidente dell'Associazione delle Comunità Islamiche della nostra provincia, rappresentati dagli 11 centri culturali della provincia, in tanti saranno in piazza appunto oltre un centiraio e ciascuno condannerà gli atti terroristici. Ancora una giornata da dimenticare per Candelara che veramente ne ha avuto di ogni e di cosa, perché dalle 8 di ieri mattina la strada che arrivava nel paese è stata bloccata per diverse ore fino alle 11 da un tir che si è intraversato in una curva, ma come se non bastasse poi nel pomeriggio, dalle prime ore fino a tardo pomeriggio, blackout totale, quindi oltre che essere isolati anche al buio. Andiamo a Gabice, una donna salvata dai vicini di casa perché entra in casa della ex, il suo ex, e tenta di violentarla. Ancora nelle pagine rimaniamo di Pesaro per il resto del Carlino, l'Unione dei Comuni, Valefoglia e Unione del San Bartolo procura qualche ansia ai vigili urbani, appunto preoccupati dal fatto che vengono ipotizzati nuovi presidi collinari e quindi chiedono chiarezza, l'RSU dice non è possibile prendere certe scelte senza un preventivo confronto e quindi assemblea con richiesta di garanzie sulle trasferte dei comuni vicini. Ancora sicurezza, la Polizia ha identificato un centinaio di clienti, di cui molti extracomunitari, perché ha controllato un'agenzia di scommesse. E poi tra le tante cose che vengono festeggiate, una delle bevande più amate al mondo, ma sicuramente da noi italiani in modo principale, perché praticamente non è peregrino vedere in città straniere italiani che sono alla ricerca di un buon caffè, ma si sa, paese che vai, usanza che trovi, insomma andiamo in certi posti e cerchiamo di apprendere un po' della loro cultura, noi invece la prima cosa che facciamo è cercare un ristorante e un posto dove facciano un caffè decente. Allora, per tutti gli amanti di questa bevanda così consumata, c'è una festa nell'alberghiero Santa Marta di Pesaro dove operatori del settore, appassionati, curiosi, potranno tra domani e lunedì, una o due giorni, tutta dedicata al caffè. Confesercenti propone incontri per gli operatori e per un caffè, è anche un caffè gratuito, spazio anche ai produttori locali di caffè. Ebbene, quindi per tutti gli amanti di questa bevanda, due giorni intensi. Fano, le pagine del resto del Carlino di Fano, raccolta differenziata, comune, insomma, tira le somme un po' dopo tutto questo periodo in cui si è fatto raccolta differenziata, c'è ancora qualcosa da migliorare, come abbiamo sentito anche ieri nel nostro telegiornale. Il risultato è un risultato sicuramente lodevole, superato il 71%, quindi ci sono i ritocchi da fare sulle bollette che però ancora non calano perché arriveranno solo in primavera questi ritocchi. Il sindaco frena perché, insomma, giustamente bisogna valutare tante cose, è solo l'inizio di un percorso virtuoso, ma aspettiamo di vedere i bilanci. Ancora di spalla il sindaco Seri chiede una moratoria per l'amorosità incolpevole al prefetto perché crede, appunto, testuali parole, che sia una battaglia di civiltà per venire incontro a chi è realmente in difficoltà. E poi, ancora sul fronte della politica, della migrazione, manifestazione quest'oggi alle ore 17 in Piazza 20 Settembre organizzata dalla Lega Nord contro una immigrazione senza regole. Ultima pagina del resto del Carlino dedicata a Fano, parliamo del caso Stamina, praticamente, che è sempre stato, insomma, alla cronaca, c'è appunto il processo di Vannoni e parla Tiziana Massaro che conoscete tutti quanti e quindi la mamma di Federico esprime tutta la sua rabbia e dice vorrei lasciare l'Italia, rabbia e delusione della mamma di Federico alla notizia del patteggiamento di Vannoni perché Vannoni patteggia, quindi ammette la colpevolezza e dubbi e certezze. Io, però, giustamente dice, non mi rassegno, è l'unica terapia possibile la Lorenzin e il ricorso al TAR. In questo articolo trovate tutte le sue considerazioni. La prima è questa, l'ignoranza e l'arroganza di questo paese domina il panorama scientifico e quindi io da mamma sono convinta di aver seguito la via giusta, l'unica terapia possibile per mio figlio e dice giustamente non mi rassegno e spero di andarmene all'estero. Le vicende legate al Natale, i costi del Natale, a parlare è la Proloco per voce di Etienne Lucarelli che dice c'è stato un battaggio, un tourbillon di cifre, di numeri, Pesaro ha speso di più, di meno, invece in realtà così non è e qui sono snocciolati tutte le cifre. Fano ha speso 38.000 e rotti euro, di cui 21.500 del comune, mentre 12.350 sono dei commercianti e 4.000 dalla Proloco. Quindi insomma questa è la cifra di Fano, tutt'altra cosa invece quella di Pesaro che era stata additata come virtuosa, ma in realtà a giudicare dai numeri in possesso della Proloco è 40.000 euro il contributo pubblico e 90.000 euro quello dei negozianti. Insomma quindi cifre leggermente diverse. Va bene, vediamo anche questa vicenda come andrà a finire. Cambiamo testata, non abbiamo il Corriere Adriatico questa mattina, quindi l'ultima testata che affrontiamo è il messaggero. Vediamo il messaggero, anche qui titolo principale, acido, 20 anni di carcere per Varani, la sentenza giunta dopo 4 ore di consiglio e vedete nella foto centrale Lucia Annibali fuori dal tribunale, vedete anche assalita dai cronisti, ormai è un personaggio pubblico nazionale e ha sicuramente qualcosa da dire a riguardo, la vedremo dopo nelle pagine dell'interno. Le primarie del PD in regione spunta il terzo candidato, primarie per le votazioni regionali che ci saranno a maggio e Paolini il sindaco di Isola del Piano, il terzo incomodo che si aggiunge a Ceriscioli e Marcolini, il meteo domina l'instabilità e quindi andiamo verso una settimana di instabilità. Allora vediamo le considerazioni di Lucia Annibali post sentenza, dice appunto l'avvocato Colli esprime grande soddisfazione, sentenza più che giusta per l'aguato con l'acido, l'imputato non ha mai chiesto scusa, la Corte d'Appello non cambia la sentenza di primo grado per Varani, ridotte solo di due anni invece le pene per i due albanesi complici di Luca Varani. Ed ecco qui insomma vedete i due diversi aspetti della cosa, insomma il padre e la sorella di Luca hanno mostrato il loro ramarico per come è andata a finire, insomma invece Lucia dice finalmente è davvero tutto finito, soddisfatta, gli chiede una cronista, dice molto soddisfatta, ora vado avanti, non mi interessa più né lui né quello che dice. Linea dura contro l'alcol, insomma la città Ducale ha avuto sempre episodi legati a questo aspetto sul fronte della sicurezza e quindi annuncia una linea dura contro l'alcol al via il nuovo regolamento e quindi ci saranno dei giovedì meno burrascosi a Urbino. Ultima pagina quella del messaggero, come vi dicevo abbiamo soltanto quest'ultima testata, guardiamo come di consueto la testata che riguarda Fano del messaggero e vediamo la questione legata all'ascis coltivato in casa, un cinquantenne aveva realizzato nella sua casa una vera serra per coltivare la marijuana e il laboratorio per ricavarci l'ascis e quindi 5 kg di droga a chilometri zero ed è stato giustamente arrestato, questo era quello che avveniva a San Giorgio di Pesaro. Le festività sono passate e però si litiga sugli addobbi, abbiamo visto le cifre che ha snocciolato la Proloco, però in posizione centrale, in principale evidenza la questione rifiuti, niente ecotassa per il momento, bollette meno salate, però abbiamo visto a primavera superata la soglia di raccolta differenziata che fa scattare lo sconto che appunto era la quota da superare era il 70%, conseguenze positive anche per la discarica di Monte Schiantello che potrà durare molto più a lungo e quindi farà dormire sonni tranquilli a tutti quanti. Bene, grazie per essere stati con noi, termina qui questo appuntamento di sabato con la rassegna stampa che tornerà lunedì mattina alle 7 e 30. Buona giornata e buon sabato a tutti voi.